Mazzarella Tommaso, fu Roberto, veniva sorpreso a passeggiare in maniera provocatoria in corso Vittorio ostentando una camicia nera. Quindi lei è fascista? No, io non sogno fascista. E allora perché metti sempre questa camicia nera? Mi morse mio frate. E quando ti muore, ma che fai? Che fai? Ti metti la camicia nera? Che fai? Non ci puoi rispettare. Ma io stai scherzando, come se ci puoi rispettare, frate? Ci puoi, tu mi metti la camicia nera. Certo. E se mi mangi, non sapessi che a la mia moglie, mi metti la camicia nera, non vuoi farci venire da Cristiano. E muore. E così è la camicia che fai, ma io devo più. E poi i denti che possono pensare. Amore, non c'è se lei, che possono pensare. No, no, io cosa non farò, buono niente. Non c'è la sedia. Giusto. Non ha capito niente. L'utente sta dicendo che porta la camicia nera e insegna il lutto per la morte del fratello. Ah. E quando è morto il fratello? Quando morì il suo frate. Ancora è fresco. Pitta, cinque anni. Cinque anni? Cinque anni. E quanto tempo lo deve portare il lutto? Almeno sette anni, se no la gente cosa può pensare. Ma qui è così importante quello che pensa la gente. E se la gente viene a sapere che a me non interessa cosa pensa la gente, cosa può pensare la gente di me? Let him go. Let him go. Quando gli ansia. Grazie.